Buongiorno a tutti, io cercherò di raccontare un po' perché questo tema, questo concetto dell'innovazione è diventato così importante negli ultimi anni e come mai oggi è al centro di una serie di documenti di programmazione, come veniva ricordato prima, anche il PSR lo adotta quale elemento centrale delle politiche di sviluppo rurale. La mia relazione è organizzata sostanzialmente su questi blocchi che vedete, io tenterò di partire da quelle che sono le sfide future che attendono il settore primario, diciamo così, da qui ai prossimi decenni e appunto tenteremo di tracciare un ruolo necessario dell'innovazione, nel senso che anche le ultime politiche europee pongono al centro dell'agire comunitario il concetto di innovazione e in particolare ci occuperemo del partenariato europeo per l'innovazione, quindi vedremo come questo concetto viene poi declinato o diciamo così a livello territoriale, locale, in particolare faremo diciamo un accenno a quello dei gruppi operativi e alla figura che viene più o meno codificata che è quella dell'innovation broker. E poi diciamo così, ultimissime due slide, tenteremo di capire quali sono gli orientamenti oggi diciamo disponibili a livello comunitario sulla possibilità di attivazione di gruppi operativi. In questa slide vedete sostanzialmente riassunto in blocchi quello che può essere considerato lo scenario evolutivo per il settore agroalimentare. Partiamo da una consapevolezza che tra qui e qualche anno saremo molti di più sul pianeta e che per far sì che ci sia un equilibrio tra domande e offerte di produzione serve un incremento diciamo del 70% della produzione agricola. Questo si accompagna diciamo ad altri aspetti particolari quindi diciamo di carattere socio economico e quindi ad esempio lo sviluppo asimmetrico del benessere a livello mondiale come vedremo dal punto di vista diciamo dei redditi pro capite. Ovviamente ci sono una serie di vincoli con cui deve confrontarsi diciamo il percorso di sviluppo dell'agroalimentare e in particolare alcuni molto noti negli ultimi tempi sempre più sul tappeto quindi ad esempio la preservazione dell'ambiente, le azioni di mitigazione del cambiamento climatico e la scarsità delle risorse naturali con cui appunto avviene la produzione. Gli impatti sulle imprese sono abbastanza significativi e non ultimo questa riforma della PAC per il 2014-2020 ha in un certo qual modo con la riforma del primo pilastro diciamo amplificato ancora di più queste pressioni sulle imprese. Qui qualche slide per diciamo tradurre numericamente quei concetti che vi raccontavo prima. tra cui qualche anno saremo oltre 9 miliardi di persone e questa crescita di popolazione interesserà in particolare alcuni bacini geografici quindi in particolare Africa e Asia. In Europa invece si registra una diminuzione della popolazione. Contestualmente diciamo all'aumento della popolazione ci sarà anche un incremento dei redditi. Qui vedete la variazione attesa tra il 2010 e il 2018 dei redditi medi pro capiti. Come vedete soprattutto in alcune aree definite emergenti diciamo così le variazioni sono più significative. Il nostro paese si pone diciamo nella parte nella coda diciamo di questa classifica. Oltre ai redditi diciamo così quello che le previsioni ci dicono è che anche quelle che vengono definite famiglie benestanti che sono quelle che hanno un reddito diciamo compreso tra 30 e 60 mila dollari e il valore dei consumi alimentari tenderanno ad aumentare in maniera come vedete molto importante soprattutto diciamo in alcune aree che sono un po' le stesse diciamo della parte sinistra della slide precedente. Con quali vincoli si confronta diciamo questo scenario? Si confronta con una serie di vincoli di scarsità. Il primo primo diciamo così il primo elemento che possiamo tracciare diciamo è quello della dei tassi medi di crescita della produzione agricola. Questi sono via via diciamo in calo erano circa pari al 3% era circa pari al 3% il tasso di crescita della produzione nel passato decennio viene atteso al di sotto del 2% per il prossimo decennio. Inoltre diciamo anche la disponibilità di terra rabile per abitante diciamo si è dimezzata rispetto agli anni 60. Questo per effetto appunto dell'incremento della popolazione e per la riduzione delle superfici diciamo fertili e coltivabili. Quindi questi pochi diciamo maduri elementi in un certo qual modo restituiscono appunto queste ragioni di una crescente domanda di innovazione all'interno del settore. Quindi un aumento della popolazione, la necessità di rilanciare la produttività in agricoltura, anche quella diciamo di come dire di invertire, di riposizionare alcuni processi di pressione ambientale. Qui vi porto, vi cito alcuni dati diciamo di documenti comunitari che fanno un po' il punto su alcuni elementi. Quindi il 40% dei terreni europei è esposto all'inquinamento da nitrati, circa la metà mostra diciamo un basso livello di materia organica e circa un quarto diciamo risente di un grado di erosione moderato diciamo. Questo per dire che cosa tutti questi aspetti per dire sostanzialmente che c'è bisogno diciamo di un cambio di passo per affrontare le sfide diciamo future alla luce dei vincoli con cui diciamo dobbiamo confrontarci. Quindi se è vero che dobbiamo diventare più produttivi, dobbiamo essere anche più sostenibili dal punto di vista ambientale per raggiungere questo obiettivo diciamo così si individua diciamo nella strada della ricerca dell'innovazione un possibile percorso di risoluzione. A differenza del passato diciamo come veniva anticipato nelle relazioni introduttive, nei saluti introduttivi c'è ovviamente il rischio che questa nuova cornice che ora andremo diciamo a illustrare possa diciamo non essere così innovativa come ci si attende. Proprio per questo diciamo è necessario un consistente sforzo a diversi livelli e di diversi attori. Prima diciamo di finire nel quadro delle politiche europee e degli strumenti messi a disposizione delle politiche europee per affrontare il tema dell'innovazione in agricoltura, mi era sembrato utile mettere questa slide per capire cosa dobbiamo intendere per innovazione. Quando parliamo di innovazione diciamo che cosa dobbiamo, a cosa facciamo riferimento. Facciamo riferimento sostanzialmente a una nuova idea che si dimostra efficace nella pratica e l'aspetto fondamentale è che questa diciamo così l'innovazione può assumere diverse dimensioni, può essere tecnologica, organizzativa, sociale, un nuovo modo di organizzare le cose, un nuovo modo diciamo di fare le cose. Quindi l'innovazione può essere declinata su diversi dimensioni, su diversi ambiti diciamo dell'attività produttiva e diciamo così si dimostra efficace solo se viene ampiamente adottata nella pratica diciamo così. Come le politiche europee diciamo affrontano il tema dell'innovazione? Allora io riprendo una frase che per me rappresenta un punto di partenza da questo punto di vista, cioè ricerca e innovazione sono concetti assolutamente diversi e più ricerca non significa automaticamente più innovazione. Questo è diciamo così uno dei limiti principali che ha caratterizzato il vecchio modello di sostegno, diciamo quello di trasferimento lineare dell'innovazione potremmo dire, quindi dall'alto verso il basso e con questi ripensamenti che venivano accennati in realtà diciamo l'Unione Europea tenta di ripensare un po' l'approccio alle politiche diciamo in favore delle politiche della ricerca e dell'innovazione. Si tenta di superare appunto questo approccio lineare diciamo a favore di quello che può essere definito un approccio interattivo, un po' quello che veniva richiamato prima, un approccio bottom up. È vero, c'è questo rischio diciamo di banalizzazione di questi argomenti che è un po' diciamo ora mentre prima il professore Sposti parlava mi venivano in mente diciamo le esperienze del leader a livello territoriale. Anche quelle diciamo sono state molto dirompenti però nel tempo hanno come dire permesso di sviluppare una capacità progettuale locale molto importante almeno in alcuni territori. Come dicevo prima l'Unione Europea diciamo tenta di affrontare questa sfida, tenta di interpretare questo passaggio con i partenariati europei dell'innovazione per tentare di far sì che questi partenariati possano essere performanti diciamo questo ripensamento del ruolo del pubblico nelle attività di ricerca e innovazione diciamo può essere inteso sotto un duplice spazio. Il primo è che queste strutture di intervento in favore diciamo dell'attività innovativa vanno quantomeno ripensate e vanno riadattate a quello che è il nuovo scenario, i nuovi obiettivi che ci si vuole porre con questi processi di incentivazione dell'innovazione e in più diciamo i soggetti pubblici e istituzionali dovrebbero essere diciamo bravi nel definire quello che può essere diciamo coniato come appunto lo spazio dell'innovazione al cui interno diciamo gli attori devono poi muoversi e definire diciamo le proprie attività. Per far questo appunto come dicevamo prima è stato istituito il partenariato europeo per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura che si inquadra all'interno della strategia Europa 2020 in cui appunto le parole, i concetti di ricerca e innovazione hanno un peso di primo piano e sostanzialmente i partenariati europei dell'innovazione vengono introdotti nel 2012 attraverso l'iniziativa Faro Unione dell'Innovazione e diciamo un primo elemento che va precisato da questo punto di vista è che diciamo il partenariato europeo quindi i pay sono un nuovo approccio, una nuova modalità di gestione delle azioni però diciamo si basano su politiche e strumenti già disponibili come vedremo quindi non portano innovazioni diciamo da questo punto di vista e non hanno diciamo neanche nuove dotazioni finanziarie ma vanno a pescare all'interno appunto di politiche e strumenti già disponibili. Quali sono diciamo le politiche che sosterranno la creazione e l'applicazione diciamo di innovazioni in agricoltura? Sono sostanzialmente due, due che possiamo anche considerare in un certo qual modo complementari, la politica di sviluppo rurale e la politica diciamo in favore della ricerca e dell'innovazione conosciuta diciamo con Horizon 2020. Allora nel primo caso diciamo nel caso dello sviluppo rurale un tema centrale appunto di tutti i piani di sviluppo rurale è il concetto di innovazione che viene appunto viene codificato come elemento trasversale del programma e quindi tutto il programma deve diciamo in un certo qual modo tentare di rispondere, di dare delle risposte a questo concetto. All'interno dei PSR diciamo un elemento cardine sono i gruppi operativi che tra un po' vedremo diciamo che cosa dobbiamo intendere per gruppi operativi e l'elemento centrale è l'applicazione delle innovazioni quindi diciamo nella pratica, l'applicazione pratica delle innovazioni mentre nel caso della politica della ricerca e dell'innovazione diciamo l'aspetto principale riguarda più appunto ricerche e condivisione di informazioni di best practice e appunto come dicevo prima possono essere in un certo qual modo considerate anche complementari come livelli. Nel caso dello sviluppo rurale qui vedete diciamo riportati quelli che sono i settori prioritari per la ricerca e l'innovazione che vengono diciamo riportati nella comunicazione della commissione sull'istituzione del PEI. Come vedete si parla di produttività, un uso più efficiente delle risorse, di innovazione e sostegno della bioeconomia, biodiversità, servizi innovativi, qualità e sicurezza degli alimenti sono tutti aspetti che in un certo qual modo tentano di dare diciamo così una risposta a quelle sfide che abbiamo accennato all'inizio. Nell'ambito di Horizon 2020 gli spazi dell'innovazione sono sostanzialmente molto vicini a quelli che guardavamo prima e che cosa possiamo dire in questo caso è che Horizon è composto da tre pilastri di cui uno riguarda le sfide per la società al cui interno trova appunto collocazione a questo tema diciamo di sicurezza alimentare, di agricoltura e di innovazione. I scopi principali sono ovviamente comuni anche a quelli di prima quindi incrementi di competitività, di produttività con una maggiore sostenibilità ambientale diciamo appunto di miglioramento del profilo e delle performance ambientali. Qui trovate semplicemente l'articolazione degli obiettivi nell'ambito del tema della sicurezza alimentare in Horizon 2020 e come vedete diciamo tentano di affrontare le diverse dimensioni appunto della produttività, della competitività e della sostenibilità quindi si parla di potenziare i rendimenti produttivi, affrontare la questione dei cambiamenti climatici, la fornitura di beni pubblici, l'autonomia delle zone rurali e così via ed interessano diciamo così all'agricoltura, il settore agroalimentare e poi anche diciamo appunto il settore ittico. Infine arriviamo nel contesto nazionale perché anche l'Italia si è data un quadro di riferimento con il piano strategico nazionale per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale e quindi che cosa è sostanzialmente anche questo è un piano di inquadramento e di orientamento delle attività di ricerca e di innovazione nel nostro paese che partendo appunto da un'analisi di fabbisogni di innovazione per le diverse filiere individua una serie di diciamo così di aree strategiche che dovrebbero essere diciamo realizzate attraverso l'utilizzo di strumenti quali ad esempio il PEI. Anche in questo caso come vedete diciamo gli obiettivi sono l'aumento sostenibile della produttività, redditività, efficienza, risorse negli agroecosistemi, cambiamento climatico, coordinamento e integrazione dei processi di filiera, qualità, tipicità, insomma sostanzialmente diciamo si gira sempre intorno a un minimo comune denominatore in termini di obiettivi. Quali possono essere diciamo queste modalità operative, come poi questi concetti vengono poi effettivamente tradotti nella pratica? Come vi dicevo prima si tenta di superare quella che è la logica dominante lineare di creazione e trasferimento della conoscenza in favore di un approccio appunto più aderente ai fabbisogni reali, quindi best fit potremmo dire. Questa domanda di innovazione diciamo così dovrebbe rispondere diciamo a quello che è un approccio ascendente e collegare insieme nell'ambito di questi gruppi operativi e diciamo soggetti coerenti e pertinenti e diciamo funzionali allo sviluppo dell'innovazione. Un gruppo operativo come vedremo tra un po' non ha una composizione fissa diciamo così, non è estremamente codificato ma è un qualcosa diciamo così, è un'associazione, un'organizzazione di persone che in funzione degli obiettivi, delle attività e delle strade da intraprendere diciamo può ovviamente essere diciamo di composizione variabile. Importante che diciamo che questo gruppo operativo sia strutturato però realmente diciamo intorno ad un progetto seppur diciamo non grandissimo nelle diciamo negli obiettivi ma deve essere un progetto chiaro, concreto diciamo effettivamente realizzabile nella pratica. Che cosa sono appunto i gruppi operativi? Non sono altro che la declinazione del partenariato europeo diciamo a livello territoriale e locale dovrebbero rispondere appunto a questa approccio ascendente quindi diretta iniziativa degli attori coinvolti che dovrebbero lavorare su tematiche molto circoscritte diciamo realizzate all'interno di progetti concreti con tempi, budget e diciamo e quant'altro tutto estremamente codificato. L'innovazione viene concepita sostanzialmente nel fatto che la componente pratica e quella scientifica dovrebbero diciamo interagire più che in passato e quindi co-creare sostanzialmente conoscenza. E poi diciamo altri aspetti fondamentali di gruppi operativi che vengono richiesti diciamo dai documenti diciamo di programmazione è che ci debba essere diciamo così una maggiore capacità di trasferire risultati e di essere diciamo così contaminati anche da esperienze, risultati e approcci diciamo svolti in altri territori o in altri stati. Come vi dicevo prima un gruppo operativo che ha una composizione assolutamente variabile può essere definito come un insieme di attori che lavorano insieme per sviluppare un progetto mirato all'innovazione e alla produzione di risultati concreti. Qui ho riportato semplicemente alcuni di quelli che possono essere considerati degli attori chiavi di un gruppo operativo quindi sicuramente degli agricoltori, consulenti, ricercatori, imprenditori del settore agroalimentare, ONG e quant'altro. Come vedremo poi in realtà un gruppo operativo può essere effettivamente molto variegato. Come vi dicevo è però necessario che questo gruppo operativo sia coeso intorno ad un piano concreto di azione e che sia in grado di condividere e diffondere i risultati delle proprie attività. Qui vedete semplicemente quali sono le opportunità di finanziamento dei gruppi operativi. Come si diceva prima i pay non portano con sé nuove dotazioni finanziarie quindi in realtà questi gruppi operativi dovranno essere bravi nel pescare all'interno dei diversi contenitori che qui ho rappresentato alcuni sostanzialmente che possono rappresentare una base di finanziamento per le attività che i gruppi operativi si candidano a fare. Qui veniamo alla parte dell'innovation broker perché? Perché se è vero che tutto questo che vi ho raccontato magari è molto bello dal punto di vista teorico poi nella pratica si scontra effettivamente diciamo con un cambio di approccio e quindi di abitudine molto molto forte e questo è uno dei rischi diciamo così che può banalizzare o snaturare questo approccio. Certo è che la misura cooperazione al cui interno diciamo così trovano collocamento i gruppi operativi quindi diciamo qui nella 16.1 e la 16.2 in questo caso ma è una misura diciamo nuova e in alcuni ambiti abbastanza complessa. Che cosa si fa sostanzialmente? Si tenta di individuare diciamo così la figura dell'innovation broker o se volete quella di un facilitatore di questi processi di aggregazione diciamo così di attori quindi di formazione di una rete sostanzialmente e di realizzazione e messa in pratica delle attività progettuali. Un innovation broker può essere appunto definito come un nodo centrale di questa rete di attori che si che si diciamo si candidano a formare un gruppo operativo che dovrebbe sostenere appunto la scoperta di idee innovative, facilitare la cooperazione. Perché? Perché come vedremo dopo diciamo così è necessario che queste figure possano stimolare cooperazione e collaborazione. Quindi tramite diciamo la messa a sistema e al centro delle competenze specifiche dell'innovation broker che devono essere appunto come vedete molto diciamo ancorate al sistema produttivo dovrebbero stimolare i diversi soggetti in grado di diciamo di porre in essere un'innovazione a partecipare diciamo a questa partnership. Questo potrà diciamo così teoricamente garantire la creazione di progetti di innovazione realmente agganciati ai fabbisogni del sistema e potrà facilitare anche ad una maggiore diffusione a livello territoriale perché? Perché si presume che siano realmente agganciati diciamo alle esigenze e i fabbisogni diciamo del sistema produttivo. Quindi un ruolo strategico nella formazione e operatività del gruppo operativo viene affidato a questa nuova figura dell'innovation broker i cui compiti principali diciamo io li ho tentati di riassumere diciamo in questi blocchi però ovviamente questi non esauriscono diciamo la complessità del fenomeno e quindi non esauriscono neanche diciamo così quello che è il compito appunto di questa figura di facilitazione appunto di che possa facilitare la messa in rete di attori. Qui come diceva prima la dottoressa Martellini in una serie di riflessioni abbiamo provato anche a ragionare su quello che può essere ad esempio anche il ruolo delle agenzie regionali diciamo nel sostenere queste attività. Secondo noi diciamo le agenzie regionali potrebbero assolutamente costituirsi come dei centri specializzati per facilitare l'innovazione e la messa diciamo in rete delle professionalità e delle figure. Perché? Perché è come se partissero diciamo così da un posizionamento come dire più adeguato a far questo tipo di attività dell'innovation broker. Quindi è come se godessero appunto di una rendita di posizione in un certo qual modo. Questo perché sia perché già diciamo nel tempo si sono sempre occupati di attività molto simili a queste diciamo che si vanno a fare tra qui al 2020 sia perché l'attività progettuale presuppone anche una capacità progettuale amministrativa abbastanza forte su alcune attività su alcune tematiche o anche diciamo delle esigenze di coordinamento molto forti. Non lo so si pensava ad esempio come vedete qui ai temi del cambiamento climatico siccome i gruppi operativi possono lavorare, dovrebbero lavorare su quelli che possono essere alcuni temi in grado diciamo di imidicare diciamo questi effetti negativi sul clima, è chiaro è che questi aspetti non possono essere affrontati esclusivamente a livello locale, a livello territoriale ma è necessario forse diciamo un livello di sinergia istituzionale che vada forse al di là di singoli territori anche regionali. E poi anche perché diciamo in questa prima fase queste attività sono diciamo estremamente innovative quindi forse io diciamo ho riportato una parola, è necessario anche che queste figure possano diciamo favorire l'informazione, la promozione quindi diciamo portare queste novità poi nei territori e quindi sollecitare e quindi stimolare anche la riflessione diciamo degli attori locali a partecipare. Qui diciamo grazie anche ad alcune slide diciamo di un lavoro della Regione Veneto vi riporto le due fasi diciamo del gruppo operativo quindi la fase di costituzione e la fase di gestione. Poi magari il relatore che mi seguirà vi spiegherà meglio nel dettaglio come appunto verranno poi diciamo codificate e affrontate questi aspetti. Però sostanzialmente la formazione di un gruppo operativo appunto la possiamo dividere in due blocchi, la costituzione e la gestione. Nella fase di costituzione diciamo così quella che viene definita innovation brokering si individua un'idea appunto in un percorso di innovazione, si va alla ricerca di partner, si fa un'animazione territoriale, si tentano diciamo di trovare le fonti di finanziamento, si verifica la fattibilità dell'idea e così via. Quindi in questa fase diciamo così quello che dovrebbe essere l'output di questa fase dovrebbe esserci una bozza di accordo dai partner quindi sostanzialmente la volontà e la capacità di lavorare insieme e anche diciamo una prima definizione di quello che è un piano dell'attività quindi sostanzialmente quel progetto concreto di cui parlavamo prima. Quindi questa è nella fase di costituzione. Nella fase di gestione in realtà poi diciamo i gruppi operativi dovrebbero diciamo entrare più nel dettaglio delle proprie attività quindi lavorare insieme, sviluppare attraverso diciamo così la misura della cooperazione o altre misure del PSR funzionali al progetto diciamo posto in essere da questo gruppo operativo dovrebbero poi diciamo come vi dicevo prima contribuire alla divulgazione dei risultati sia a livello nazionale che diciamo comunitario. Anche in questo caso diciamo così due output fondamentali di questa fase dovrebbero essere appunto l'introduzione di innovazioni in azienda e quindi poi diciamo la diffusione e la condivisione dei risultati. A che punto siamo in alcuni territori? Allora diciamo non ci sono molte informazioni disponibili. Io ho avuto modo di guardare alcuni documenti diciamo che stanno caratterizzando diciamo la regione Lazio. Sostanzialmente che cosa sta succedendo? Nelle scorse settimane diciamo ci sono stati degli incontri di coordinamento tra ricercatori dell'Università della Tuscia e del CRA che hanno diciamo un po' messo sul tavolo quelle che possono essere le innovazioni disponibili in questo caso nell'ambito di una filiera molto specifica che è quella diciamo del kiwi che rappresenta una produzione molto caratterizzante alcune aree diciamo in particolare della provincia di Latina. Quindi il kiwi è estremamente importante per alcune economie locali. Quindi sostanzialmente partendo da quelle che sono diciamo le problematiche di questa produzione sia nella fase di produzione di gestione che di raccolta e diciamo provando a far un'attività di matching con le innovazioni disponibili diciamo dal punto di vista della ricerca e quindi diciamo delle attività che potrebbero contribuire a sostenere un miglioramento della competitività e della sostenibilità ambientale di questa filiera appunto si sta tentando di costituire un gruppo operativo del kiwi. Quindi sostanzialmente in questo caso diciamo così l'idea è quella di diciamo di radunare intorno a questo progetto gli attori di questa filiera del kiwi per far sì che si possa diciamo così provare magari anche ad impostare delle strategie interregionali perché appunto la produzione di kiwi diciamo interessa anche altri territori. Quindi in questo in questo diciamo momento siamo proprio in un processo di valutazione di quello che è il gruppo operativo del kiwi perché anche in questo caso si sta diciamo così analizzando quali dovrebbero essere diciamo così le tematiche innovative e diciamo che sono prioritarie rispetto ad altre. Qui invece diciamo trovate un altro esempio di un gruppo operativo ripreso sempre diciamo da questo lavoro del Veneto dove vedete che sostanzialmente diciamo così tutti gli attori intorno a un tavolo che formano questo gruppo operativo e come vedete diciamo è abbastanza diverso da quello che vi ho presentato prima. Qui trovate due università, aziende agricole, industria diciamo agromeccanica, ONG, istituto di certificazione ambientale, un'agenzia regionale e così via. Sostanzialmente in questo caso diciamo l'idea di base era quella di un'esigenza di un'azienda vitivinicola che voleva migliorare diciamo la propria impronta ambientale potremmo dire, voleva diciamo far sì che questo miglioramento delle attività produttive dal punto di vista ambientale potesse anche essere riconosciuto diciamo così nelle proprie produzioni. Quindi sostanzialmente un operatore si esprime un'esigenza di innovazione e come vedete diciamo intorno a questo tavolo le istituzioni pubblico o private diciamo possono contribuire ovviamente ognuno per il proprio campo di lavoro alla realizzazione di questo obiettivo. Ovviamente diciamo così tutti questi aspetti trovano sostegno all'interno delle politiche di sviluppo rurale in maniera più o meno differente e diciamo pescando all'interno diciamo di diverse misure. Infine diciamo che con le ultime due slide mi avvio le conclusioni è necessario che tutte queste attività che poi vengano realizzate siano diffuse attraverso la rete europea. La rete europea che in questo caso diciamo così ha messo in piedi anche quelli che sono una serie di focus group. Attualmente sono previsti circa 15 focus group su tematiche abbastanza differenti quindi agricoltura biologica, aree di interesse ecologico, risorse genetiche, agricoltura di precisione e così via. Qual è l'idea che diciamo che sta dietro a questi gruppi di lavoro? Sostanzialmente sono gruppi di lavoro molto differenziati che tentano di tracciare lo stato dell'arte diciamo così rispetto al tema di interesse del gruppo e su diciamo su queste basi tentano diciamo così di individuare quali possono essere diciamo così i temi su cui i gruppi operativi dovrebbero costituirsi e andare a lavorare. Qui vi riporto diciamo una piccola sintesi di quello che è diciamo il lavoro del focus group sull'agricoltura biologica che diciamo ha prodotto un documento di sintesi che individua sostanzialmente le cause dei divari di rendimento nei raccolti come uno diciamo dei temi diciamo più importanti su cui i gruppi operativi potrebbero diciamo lavorare per migliorare appunto diciamo questo aspetto e individua anche diciamo gli aspetti molto circoscritti su cui i gruppi operativi potrebbero diciamo contribuire a risolvere diciamo così e quindi a ridurre questi divari di rendimento. Si parla di selezione di varietà locali, introduzione di nuove colture, di nuove fertilizzanti, quindi di tutta una serie di aspetti contenuti all'interno di questi documenti che tentano sostanzialmente di fornire una sorta di indirizzo e di orientamento diciamo così per i gruppi, per i costituenti gruppi operativi. Grazie a tutti per la vostra attenzione.